Sette anni e otto mesi di reclusione sono stati invocati dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di Domenico Tallini, ex presidente del Consiglio regionale della Calabria, al termine della requisitoria nel processo con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta Pharma Business sull'affare della vendita all'ingrosso di farmaci che sarebbe stata organizzata da componenti della cosca Grande Aracri con l'aiuto di imprenditori, esponenti politici e funzionari pubblici. 19 le condanne richieste. Tallini è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Affare da collante tra i vari componenti del suo dalizio sarebbe stato l'antennista di Catanzaro Domenico Scozza Fava, accusato anche di associazione mafiosa nei confronti del quale la distrettuale ha chiesto 16 anni di reclusione. Le accuse mosse agli imputati sono a vario titolo associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico mafioso.